La campanella che annuncia l'inizio del nuovo anno scolastico spullerà domani per oltre 150.000 studenti di terra di lavoro, ma nel capoluogo a risuonare ormai da giorni sono le voci di protesta nei confronti del Comune, che ha accumulato anni e anni di arretrati non avendo pagato i buoni libri ai rivenditori. Il risultato è che i librai ormai scottati non intendono far credito alle mamme per l'acquisto dei testi, in attesa di buoni libro che ormai giudicano privi di valore a causa delle inadempienze municipali. Qualche giorno fa il segretario provinciale della Federazione della Sinistra, Pasquale Panico, ha ribadito la gravità della situazione chiedendo soluzioni al primo cittadino, Pio Del Gaudio, il quale non si sottrae al dialogo e anzi lancia un appello convinto ai librai. Siamo un'amministrazione che governa da tre mesi e che non è in grado di pagare non solo le scedole ai genitori, ma non è in grado di pagare la luce, il gas, gli stipendi ai dipendenti comunali, il canile, i cavalli del comando vigili, l'imbondizia. Siamo un'amministrazione comunale che in questo momento si trova in una situazione finanziaria mostruosa che ha radici storiche. Io sono padre, ho figli e quindi accompagnandoli a scuola vedo tutto quello che sta capitando in queste ore. Abbiamo messo in campo con grandi sforzi un sistema di pagamento per quanto riguarda i buoni libri. Capisco pure che i librai avanzano un sacco di soldi. Gli ho chiesto anche però un atto di disponibilità perché questa città si risolleva se tutti quanti facciamo qualche sacrificio. Allora noi non riusciamo a pagare tutto l'arretato, questo è ovvio e nei fatti. Pagheremo una parte, però siccome i sacrifici li fa il sindaco che non è stato mai pagato né da consigliere comunale né da sindaco, così come i sacrifici li stanno facendo gli assessori che non sono stati mai pagati, è giusto che li facciano anche i librai. Per cui noi nelle prossime ore, come abbiamo detto, pagheremo una parte del dovuto, però loro dovranno essere disponibili nei confronti dei casertani. Insomma, Del Gaudio non ci sta ad assumersi colpe che non sono della sua amministrazione, ma sicura che la collaborazione dimostrata dai librai sarà premiata, anche se a rate. Non mi sta bene che fuori alle librerie si scriva non paghiamo i buoni libri per colpa dell'amministrazione comunale, perché non è giusto che sia così. Allora si dica di chi sono le responsabilità e si dica soprattutto che l'amministrazione Del Gaudio non deve un euro ai librai, perché siamo stati eletti da tre mesi, le amministrazioni precedenti devono un milione di euro ai librai.